Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Mi scuso per l'assenza, in realtà ho terminato Cecità di Giuseppe Saramago due giorni fa, ma sono state delle giornate molto impegnative. Infatti anche oggi ho fatto una spesa abbastanza grossa, ma non sono riuscita a fare lo svuoto alla spesa, scusate, perché ho Gaia a casa e quindi avendo lei a casa diventa tutto molto più difficile e macchinoso proprio da organizzare. In più è un periodo molto impegnativo per noi, più avanti vi spiegherò anche il motivo. Quindi sostanzialmente non è facile sempre organizzarsi con una bambina a casa, visto che comunque gli asili sono ancora chiusi. Speriamo che dopo Pasqua riaprano, anche perché Gaia ha una voglia proprio allucinante di tornare alla sua quotidianità e normalità. Speriamo che capiscano che comunque le scuole vanno lasciate aperte. Secondo me è proprio una cosa essenziale per loro, proprio come socialità e tutto. Comunque vado alle ciance. È un libro al quale ho attribuito 4 stelle e mezzo su 5. Ho letto una vecchia edizione dei Naudi in cui il prezzo è ancora 30.000 lire, ma vi dico la verità, trovate varie edizioni che partono da quelle tascabili, essendo ormai un classico moderno, dalle 7,50-8,50 euro fino a quelle rilegate che comunque arrivano addirittura alle 20-22 euro. Come un po' ogni libro che è entrato proprio nei classici, lo trovate un po' in tutti i prezzi e in ogni traduzione devo dire che questa traduzione di Rita Desti mi sembra abbastanza buona. Il libro in questione ha 315 pagine e non so se vi ho già detto che è il libro al quale ho attribuito 4 stelle e mezzo su A9 su 5. Sostanzialmente la trama è la seguente. I personaggi prima di tutto non hanno nome e voi imparerete a conoscerli soltanto con il lavoro che fanno. Quindi anche questa cosa è molto particolare, un personaggio ha il suo nome ed è facilmente intuibile capire il perché, si riconoscono. Invece Saramago sfrutta questa tecnica tutta nuova in cui per rendere ancora più spoglio il personaggio, ancora più senza identità da un certo punto di vista gli toglie addirittura il nome. La storia si apre con delle persone al volante davanti a un semaforo e un ragazzo improvvisamente si trova cieco. Non è una cecità la sua, crede tutto buio, ma è una cecità ciecante. Lui si trova davanti a un bagliore, a un bagliore tremendo e bianco. Gli sembra quasi di essere avvolto nel latte. Sostanzialmente viene riaccompagnato a casa da un'altra persona che si trova per la strada, lo aiuta nel momento di difficoltà e da lì a macchia d'olio cominceranno a essere cieche sempre due persone, sempre al stesso modo. Quindi non cieche nel buio, ma cieche nella luce, se volete. Appunto, una delle quali diventa cieca è proprio il suo oculista, che comunque all'interno del suo studio a vari pazienti, che guarda caso diventeranno tutti ciechi. Queste saranno le prime persone ad essere messe in una struttura, che poi è un ex manicomio in realtà, e un po' trattate all'estremo degli animali. La moglie del medico, che sarà l'unico personaggio a non diventare cieco per tutto il libro, mentirà quando il suo marito verrà esportato da casa sua e messo in questo manicomio. Mentirà e dirà che cieca pure lei. Questo proprio per proteggere un po' suo marito. Si troveranno quindi sempre più numerosi in una struttura che sarà sovrappopolata di persone cieche, che vivranno sì grazie agli approvvigionamenti dei soldati e dell'esercito, ma che mano a mano si ammaleranno anche loro e diventeranno sempre più numerose le persone che perderanno la vista e verranno un po' trattati come... Cosa c'è, Dalia? Scusate, mia figlia che ha fatto un exploit. E niente, stavo dicendo appunto che quindi saranno sempre maggiori le persone all'interno di questo ex manicomio, in questa struttura, e saranno sempre più numerose anche le persone dell'esercito che si dovevano occupare degli approvvigionamenti a raggiungere uno stadio di cecità appunto accecanti. Sempre questa cecità comunque che non comprende il buio, ma che comprende una luce molto forte. All'interno di questa struttura comunque vedremo proprio delle soluzioni anche igienico-sanitarie che io ho trovato ributtanti perché i bagni si intasano quasi subito, perché non ci vedono, non sono ciechi dalla nascita, quindi si devono un po' arrabattare per arrivare al bagno. Insomma, sostanzialmente sarà una cosa molto difficile per loro, l'igiene cominceranno a essere sempre più sporchi perché l'acqua non ce n'è, il cibo non arriverà tutti i giorni. Poi ci sarà addirittura un gruppo che prenderà il sopravvento sugli altri e che quindi comincerà, siccome hanno una pistola, cominceranno a dettar legge, sarà un gruppo ristretto di uomini, inizialmente prenderanno i soldi, quando sono finiti i soldi chiederanno le donne che stupreranno in massa. Insomma, cose molto forti che comunque segnano il lettore, nel senso che fanno un po' riflettere anche sul parallelismo, se volete, sulla nostra società, che chi ha comunque il potere in mano primeggia sempre, anche se c'è il cibo, sugli altri, sui più deboli, sui più poveri. Proprio questa è la metafora che un po' Saramago tenta di farvi capire in tutto il libro, anche gli stupri durante le guerre, ad esempio, se volete, la metafora proprio di come gli uomini davanti a determinate cose, proprio come il potere, in questo caso dato dalla cecità di tutte le persone all'interno, li renda dei bruti, li abbruttisca. Insomma, sostanzialmente, sono scene molto forti, sono scene molto forti che invitano proprio il lettore a una riflessione costante. Ecco, non pensate di leggervi Saramago e di prenderlo così. Anche perché Saramago comunque è un tipo di scrittura che rimane molto impresso. Avevo letto, se seguite il mio canale lo sapete, avevo letto L'uomo duplicato, che mi era piaciuto, ma non tanto quanto questo. E questo è proprio un capolavoro, secondo me. Cioè, qua parliamo proprio di alta letteratura, ha del geniale questo libro. Quindi, L'uomo duplicato era molto più mentale, psicologico. Qua c'è molta più azione, anche se, ripeto, il modus narrativo, in realtà, di Saramago è molto particolare. Cioè, lui usa pochissimo la punteggiatura, ci sono comunque questi capitoli, ma, ad esempio, va poco a capo. Quindi, anche lì vi troverete davanti a un tipo di narrazione continua che non vi lascia tregua. Ma, comunque, riuscirete a leggerlo perché la sua capacità di scrittura è veramente grandiosa. Non sto a rivelarvi di più come finisce il finale, soprattutto, come finisce il finale, scusate, gioco di parole, come finisce il libro, perché è molto interessante. Comunque, niente, aggiungo soltanto che, a un certo punto, i ciechi si troveranno a dover uscire perché non arrivano più i rifornimenti, si ribelleranno anche al gruppo di malvagia all'interno del manicomio, riusciranno a uscire, anzi, saranno spinti da proprio una sommossa interna a uscire e si troveranno completamente abbandonati dai soldati perché sono diventati tutti ciechi. Quindi, diciamo, la malattia ha preso il sopravvento sulla società. Se volete vi farà anche un po' riflettere sulla pandemia di coronavirus che c'è in questi anni qua da noi. Certo, una pandemia, se volete, più controllata, la nostra, ma neanche tanto, fino a un certo punto, rispetto a questa di cecità di Saramago. Ecco, ragazzi, quindi sicuramente un libro tra i cento da leggere. Dovrei fare una volta un video sui 50 libri da leggere, secondo me, o i 10 almeno. Sicuramente questo rientra tra i libri da leggere nella vita perché è molto significativo anche il fatto che lui parli per metafore, tutta la storia della cecità, anche il fatto che sia una cecità cecante, bianca e non buia. Insomma, sono proprio cose che vi invitano proprio alla riflessione. Ecco, ragazzi, per il momento è tutto. Io vi saluto e vi aspetto sempre qui sul mio canale. Ciao! Grazie a tutti.